Ben ritrovati a tutti ed eccoci qua ad affrontare la prima parte, ovvero l'introduzione del corso sulle ER, ovvero espressioni regolari. Prima di tutto è meglio specificare cosa si intende con regolare, ovvero il nome espressione regolare è di origine matematica e come dire che il termine, la parola regolare non è da intendere come è la regolarità nel linguaggio comune quando si dice una cosa è regolare eccetera eccetera, ecco ma regolare è un termine appunto in ambito diverso che non nel linguaggio comune, si intende con questo termine regolare, si intende ci si riferisce meglio alla formalità, ovvero come è formato, come è formalizzato il linguaggio che compone le stringhe delle espressioni regolari, quindi con i simboli naturalmente previsti dal linguaggio delle espressioni regolari, ecco. Quindi questa è solo una precisazione, non è che come dire, ci guadagniamo, ci perdiamo qualcosa se non sappiamo questa cosa, però è anche giusto dirlo, eh, visto che regolare potrebbe indurre a credere che siano delle espressioni regolari in un senso e non in quello appunto del formalismo del linguaggio, ecco. Tutto lì, niente di che. Ma era dovuto appunto come specificazione, come spiegazione. Le espressioni regolari, quindi, come ho già avuto anche modo di accennare molto rapidamente nel video precedente introduttivo, introduttivo del corso, le espressioni regolari sono uno strumento usato spesso e volentieri dagli sviluppatori di software, insomma, ecco, di qualsiasi tipo, che sia web o non web, comunque, fanno comodo, eh, a questa, come dire, categoria di tecnici, ecco, degli sviluppatori software. Quindi, appunto, non, in quanto tema, non sarebbero proprio materia di questo canale per utenti comuni, come piace chiamarvi e chiamarci noi, ecco. Sono un tema piuttosto tecnico, quindi, ecco, e non, e non facile da affrontare e, appunto, e vedendo degli esempi di espressioni regolari si capisce anche perché, ecco. Insomma, questi sono una serie che sembrano di, 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 di simboli digitati con la tastiera quasi casualmente e non si capisce, eh, diciamolo pure, non si capisce praticamente niente. Ho anche qui nello sfondo messo un'altra espressione, un'altra immagine di espressione regolare a caso, beccata a caso su Google e non è, eh, che sia un granché leggibile, né pronunciabile né leggibile, ecco. Sono un po' un insieme di simboli messi lì, eh, che non sono a caso in realtà, però per chi, eh, non conosce le espressioni regolari sono veramente difficili o per nulla interpretabili, ecco. Vedete qua. E, ehm, quindi, appunto, eh, diciamolo pure, viste così sembrano effettivamente un linguaggio alieno, eh, quei simboli magari strani, eh, che si trovano nei siti archeologici e che non si riescono a interpretare, ecco, insomma, vedete un po' che roba. Eh, però bisogna pur dire che è un linguaggio. Quindi le espressioni regolari hanno un loro alfabeto, un loro simbolismo che va, eh, utilizzato con determinate regole, eh, grazie alle quali poi si ottiene un determinato risultato. Quindi le espressioni regolari, come per tutti i linguaggi, anche l'italiano che sto usando per comunicare con voi, è un linguaggio convenzionale, insomma, ecco. E quindi anche il linguaggio cosiddetto, che ho chiamato alieno, delle espressioni regolari, ha un suo vocabolario e un suo insieme di simboli e anche, ovviamente, una sua grammatica, possiamo dire così. Quindi non è che sia necessariamente più difficile di un altro linguaggio, è solo diverso, eh. Quindi così come, che ne so, un cinese troverà incomprensibile il nostro italiano, noi viceversa troviamo incomprensibile il cinese, però poi basta studiare una lingua o l'altra e qualcosa poi si comincia a arrivare a capire. E più uno si interessa, più arriverà a capire il cinese, se siamo noi che parliamo italiano, e viceversa il cinese arriverà a capire l'italiano sempre meglio se l'argomento lo interessa. La stessa cosa, identica, capita o può capitare con l'espressione regolare, quindi se è un tema che ci affascina, che ci interessa, automaticamente incomincieremo a entrare in questo universo sintattico e grammaticale delle espressioni regolari e poi man mano si vedrà che si comincia a capire che cosa vogliono dire tutti questi simboli messi lì, che sembrano in questo momento messi lì un po' la rinfusa, ecco. E quindi è un linguaggio, non ci deve diciamo di principio già a priori essere prevenuti e spaventarci e sentire, parlare di espressioni regolari e dire ah no io lascio perdere, non riuscire mai a capirci niente. Non è vero ecco, a dipendenza della facilità che abbiamo con le lingue e dell'interesse che abbiamo per questo tema, possiamo arrivare tranquillamente almeno a saper leggere e interpretare queste serie di simboli. Ecco, tra l'altro queste sono espressioni regolari che ho preso a caso da qualche sito web qua e là e ho fatto semplicemente dei copy and call giusto per mostrarvi questa scaletta di questo video, qualche esempio. Sicuramente faranno qualcosa di utile nell'ambito dei siti web dai quali le ho prese, però non mi ricordo neanche più da dove vengono, cioè le ho proprio messe qui a caso. Quindi prendetele come tali così, solo degli esempi. Ecco, dicevo, prima di questo elenco di esempi dicevo, non sarebbe quindi, visto che è un tema assai tecnico, non sarebbero proprio materia o non dovrebbero essere proprio materia di questo canale YouTube, ecco, per utenti comuni. Tuttavia, ecco, quindi riprendo il discorso qui che ho impostato prima, tuttavia un fatto inconfutabile credo è conoscere meglio che non conoscere, fosse solo per curiosità o cultura generale. Quindi perché no? Se avete voglia di seguire questi video, seguiteli, anche, magari anche piuttosto passivamente, è giusto per vedere cosa significano queste espressioni regolari, per pura curiosità. Quindi, appunto, è un principio al quale tengo, anche personalmente, è che conoscere è meglio che non conoscere. Quindi fosse solo anche per questo motivo ci sarebbe già uno scopo di fare questa serie di video, secondo me, dal mio punto di vista. Poi, svariati comandi per il terminale usano l'espressione regolare, quindi se vogliamo sfruttare pienamente il potenziale di questi comandi al terminale, che abbiamo visto nel primo video, alcuni dei quali io vi presenterò in questa serie di video, come grep, come sed, eccetera, eccetera, ecco, questi comandi sono già, come dire, potenti di loro, con molte opzioni, ma fra le quali c'è anche la possibilità di usare l'espressione regolare, di innestarle nell'opzione di questi comandi e renderli ancora più potenti. E quindi può essere utile, a dipendenza delle vostre esigenze, ovviamente, può essere utile appunto conoscere, avere le basi di gestione dell'espressione regolare per sfruttare ancora meglio la potenzialità di questi comandi che il nostro sistema Linux ci mette a disposizione. Poi, anche questo punto lo trovo importante, se trovate dei comandi già preconfezionati in rete e che questi comandi, nella descrizione di questi comandi, viene descritto proprio quello che voi avete bisogno, che pensate di avere bisogno, cosa fate? Li copiate, li incollate nel vostro terminale e li eseguite, perché magari c'è scritto che fa, che quel tal comando svolge quel tal compito che voi proprio avete bisogno, ma non sapete scrivere voi stesse quel tal comando, lo cercate in rete e lo trovate. Ecco, però senza, e se questi comandi implicano l'uso, almeno in parte, di un'espressione regolare, ma non la sapete interpretare, in realtà non avete la garanzia che quel comando faccia esattamente quello che vi viene detto e quindi vi esponete potenzialmente, teoricamente, anche dei rischi, come per tutte le cose che copiate o che trovate in rete, prima di usarle bisognerebbe sapere esattamente o essere in grado di capire esattamente che cosa fanno quelle cose che copiate ed eseguite sul vostro PC. Se no, potete sempre andare incontro a problemi. Ed ecco che se questi comandi appunto hanno a che fare con delle espressioni regolari e voi non sapete interpretarle, andate tra virgolette alla cieca, a vostro rischio se usate quei comandi senza sapere che cosa fanno. Invece, se siete in grado almeno di leggere un'espressione regolare o di capire a grandi linee che cosa fa quell'espressione regolare, siete anche in grado di confermare o meno che quel tal comando farà veramente quello che vi aspettate e non qualcosa di più maligno, ecco. Quindi terzo motivo per cui vale la pena studiare o perlomeno capire i principi sulle espressioni regolari. Da ultimo ho messo un altro punto, vediamo un po' cosa dico. Beh, questo non è un motivo in quanto tale, ma è un punto di descrizione ulteriore delle espressioni regolari che quindi come vedremo e capiremo meglio anche nei prossimi video, come potete già vedere qui, le espressioni regolari sono uno strumento conciso e potente che permette appunto di svolgere dei compiti che altrimenti, e questo lo sanno bene gli sviluppatori, richiederebbero uno sforzo di codifica ben maggiore, cioè per replicare le stesse funzionalità che, che ne so, un'espressione regolare come questa fa tranquillamente con, che ne so, una ventina di simboli scritti, ci vorrebbe uno sforzo ben maggiore a ricreare queste funzionalità con un linguaggio di programmazione qualsiasi. Ecco, quindi sono molto concise, molto, sembrano criptiche se non si sanno interpretare, però, e lì sta la loro potenza, quindi con pochi simboli, con una parentesi, con una lettera, con una righetta, con pochi simboli ottenete molto valore aggiunto, ecco, un ottimo risultato di ciò che avete bisogno con pochi, con una simbologia molto concisa, ecco. E questo è quello che volevo dire in questo ultimo punto elencato qua. Ecco, quindi tutto sto parlare in questa parte di corso di introduzione per dire che, alla fin fine, questi sono i motivi che poi, tra vari ripensamenti, dubbi, sì e no, alla fin fine mi hanno spinto a prendere la decisione di creare questa serie di video. Quindi su questo tema, appunto, che è spesso considerato ostico e che però, appunto, ostico o non ostico può essere utile per i motivi che ho appena descritto qua sopra, avere un'infarinatura almeno su questo tema. Non è necessario diventare dei professori di espressione regolari, basta magari saperle leggere, ecco. E avere una chiave di lettura, appunto, di queste espressioni regolari può essere utile, può essere sempre utile in qualche momento della nostra, come dire, vita informatica anche casalinga, ecco, perché no. Voilà, con questo direi che possiamo concludere qui questo primo video ufficiale del corso, così come introduzione generica, ancora una volta senza entrare nella vera teoria e vera pratica delle espressioni regolari, perché questo, proprio concretamente, si entrerà dal prossimo video in avanti con la parte 2, che è quella appunto fondamentale di teoria vera e propria sulle espressioni regolari. Da lì cominceremo a capire cosa vogliono dire questi simboli, cosa servono e come interpretarli. Quindi dal prossimo video in avanti entriamo veramente in tema a pieno titolo. Con questo concludo, vi saluto e vi attendo alla prossima. Ciao ciao! Ciao! Ciao!